eccoci qui un saluto a tutti una buona giornata 5 novembre un abbraccio a tutti forzamin oggi più che mai domani ancora di più mi raccomando commentate numerosi lasciate un bel like iscrivetevi attivate la campanella e date uno sguardo allo store di Milanello dove c'è la felpa di 125 anni del Milan tra un mesetto ci siamo celebreremo insieme anche questo evento in compagnia di Leonardo Martinelli che saluto e ringrazio c'è Leonardo è un piacere ciao ciao piacere tuo molto piacere parlare di Milan parlare di Milan è sempre bello anche se fanno di tutto per rendercelo meno bello ma ma non ci riusciranno eh sai sul non ci riusciranno credo anch'io però sai che leggevo ieri sera in un video dei commenti che ho ricevuto tanti tifosi che dicono ho 60 anni ho 70 ne ho 40 ho vissuto momenti belli brutti ma tanti descrivono questo come un momento in cui ci stanno togliendo le emozioni ed è il momento forse più desolante di tutti è vero è vero è vero il rischio c'è la sensazione addosso c'è ma è anche vero un'altra cosa pensate per esempio al all'entusiasmo che abbiamo avuto dopo il derby poi ce l'abbiamo subito rovinato per tutto quello che è successo dalle auto però libra le dichiarazioni però pensate che entusiasmo le sconfitte eh sì beh poi sconfitte l'assenza ma no ma più che sconfitte l'assenza dei della dirigenza tutto cioè la mancanza di una prospettiva di un progetto di una cosa vera sportivo dicono questi bilanci che vanno inutile che sappiamo tutti che dovrebbero essere molto più inutile che noi non ce ne frega niente di questo però pensate che bello sarà quando finirà questa cosa e ci sarà qualche cosa per cui entusiasmarsi il nostro entusiasmo sarà pazzesco dobbiamo avere pazienza di arrivare a quel punto e ognuno di noi ognuno di noi nel suo piccolo infimo minimo spazio di tifosi dobbiamo contribuire ad accelerare il più possibile l'uscita di questi mercanti nel nostro picco tutto in un modo regolare in un modo da sportivi in un modo civile civilissimo con la con la parola con con l'esempio con magari la mancata presenza eh magari a competizioni in cui il biglietto un biglietto più più scarso magari costa cento euro tutte cose che ci costano a noi tifosi perché noi vorremmo spendere soldi sul milan piuttosto che da altra parte vorremmo andare a fare le trasferte vorremmo assaltare i casa milan per comprarci tutto per noi a regalare solo quello ci piacerebbe è ovvio che ci piacerebbe quello che ho sempre fatto ma che non farò non farò più io non do più un euro io non do più un euro poi gli altri facciano come credono eh perdonami eh una cosa che capita ogni tanto anche qs us c'è il microfonino che sbatte forse col tavolo con più di rumore so che fai tv e anche youtube da anni però ogni tanto questo vizio torna però è anche il bello la spontaneità ma perché mi faccio prendere ma io mi io mi faccio prendere dal dalle emozioni di parla del milano sto badare alla tecnologia no ecco questo è poi sono un po un boomer e quindi mi come diceva come come disse l'attuale papa mi corrigerete e mi perdonirete comunque vabbè questa è la situazione ognuno di noi se tutti facciamo così o no ognuno di noi deve fare al proprio modo di fare la sua parte essere tifosissimi ma non fare niente o il meno possibile diciamo per tenere un minuto in più questi mercanti che che hanno il grande privilegio di poter gestire una società gloriosa e questo privilegio non sanno nemmeno cosa siano e gestiscono in milan come se fossimo una fabbrica di piastrelle di sassuolo con tutto il rispetto per le stupende piastrelle di sassuolo e sì tu dici quindi facciamo come quando si dice facciamo i fioretti no facciamo un sacrificio anche se più forte di noi però poi ma io l'avevo già fatto lo hai già ricordato io inizio estate io ho fatto il fioretto di dire rinuncio allo scudetto pur che se ne vadano sì quello sì e poi rinuncio era quella caspita in estate hai detto rinuncio non metterò più un euro merchandising cose sei stato devo dire di parola come una parte di tuomole che ti ha regalato una tute del milan e tu hai detto no la rispediamo indietro davvero è che già adesso è che già adesso ho detto quest'anno non si va a casa milan a fare la solita puntatona due volte a comprare i regali per la famiglia e per gli altri quest'anno casa milan niente ecco al di là di quello che noi possiamo fare no ti chiedo che cosa c'è cioè c'è il tema stadio c'è il tema vendor loan ci sono delle cose io faccio spesso l'esempio del ti trovi su sei un ruscello devi arrivare giù non sai come ci arriverai perché poi incontrerai una roccia una salita una discesa ci arriveremo giù ma per arrivarci giù meglio e prima che cosa ci dobbiamo augurare come come evento non andiamo sul generale la filosofia un evento l'evento che ci dobbiamo più augurare perché succede da quello che abbiamo tutti nel cuore guarda è una domanda interessante no però è difficile difficile da rispondere interessante ma è difficile da rispondere per esempio qualcuno potrebbe dire beh allora quest'anno noi stiamo rischiando seriamente di non andare in champions no perché per arrivare in champions quest'anno dobbiamo arrivare davanti all'atalanta è così scontato arrivare davanti all'atalanta o ci devono essere ancora cinque posti vabbè partiamo supponiamo che siamo quattro che oggi siamo quattro non è scontato per niente non è scontato arriviamo soprattutto quindi non andare in champions produrrà un danno che l'anno scorso alla juventus l'anno scorso costo circa 100 milioni no uno per l'altro uno dice beh sai che il vendor long non è 100 milioni magari vanno in difficoltà e vendono no 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 perché loro fanno presto vendono giocatori vendono giocatori in più abbassano il monte in gaggi e hanno già e hanno già recuperato quello e tieni conto che il mina comunque ha a bilancio uno stato patrimoniale attivo così attivo che può tranquillamente permettersi una debacle economica di questo tipo perché comunque loro su quello sono capaci il fatturato non diminuirebbe a parte gli incassi della champions quindi purtroppo quello dovrebbe essere per un paio di anni consecutivi ecco però vorrebbe dire anche anche cose tremende sotto tutti la possibilità non so cioè che beh che è ovviamente che arrivi un'offerta irrinunciabile che però che però troppo di un valore troppo superiore al vero valore no un'offerta superiore al vero valore che quindi secondo me Redbird si accontenta anche di poco ma non Elliot Elliot ha già rinunciato a tanti soldi pur di rimanere perché sa che può spennare può mungere questa mucca alacremente qui un totale questa povera mucca che è il milan viene munta da Elliot che si prende il vendor loan che si prende gli interessi sul vendor loan e che si prenderà la plusvalenza dell'acquisto e lo stesso Jerry Redbird che abbiamo visto dai bilanci sia quelli ufficiali 4 milioni sia nelle pieghe nascoste nel bilancio quanta opulenza ci sia nel nostro bilancio ecco quindi quindi sarà dura nel senso guardando un po il bilancio che cosa possiamo ricavare che ci sono possibilità no che ci sono voci che ci sono voci assolutamente positive che sono voci assolutamente positive accantonamenti estremamente positivi stato patrimoniale positivo discorso de catelar è la prova provata cioè abbiamo rinunciato a esercitare il nostro diritto cioè incassare altri mi sembra 20 io passa milioni da decatele 25 subito e gli abbiamo detto no guarda noi vorremmo un paio di mesi di dilazione un paio di mesi di dilazione neanche gennaio ma anche gennaio perché se non gennaio devi spendere sul mercato di gennaio esatto ma guarda è tutto fatto proprio per farci nervosire cioè noi ho detto ma no quanto ci dovete dare a febbraio va bene ma vi dobbiamo dare qualcosa in più no 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 amici va bene così ma rimane anche l'atalanta sono rimasti stupiti non è mai successo c'è una cosa da pagare reteghi non lo stanno pagando con questo concetto l'atalanta e quando l'atalanta ha preso i soldi per cub miners ha fatto delle regole e le vuole che siano rispettate solo in milan fa la regola per decatelar no apre una parentesi che il signor decatelar è un giocatore imprescindibile dell'atalanta un fior di attaccante che noi abbiamo trattato come l'ultimo dei poveretti tanto per essere chiari ma comunque no l'atalanta capisce questo capisce lo del milano lo compra spende i soldi che ha speso il milan ma alla fine noi non ci interessa incassarli i soldi perché i soldi sarebbero andati negli utili no e per non e quindi il tifoso avrebbe visto 30 milioni di utili 25 milioni di utili no sarebbe nervosito allora avrebbe dovuto spenderli ma non li vogliono spendere ma non li vogliono spendere se non avremmo comprato icone e altre cose no hai capito cioè questo è non ne usciamo guarda con con questi non se ne esce perché i fondi sono sono lì per fare qualche cosa loro fa per fare il loro mestiere i fondi sono lì per fare il loro mestiere peccato che il loro mestiere contrasta totalmente con l'ambizione del tifoso non c'è niente da fare cioè loro loro fanno le cose regolari loro fanno le cose giuste per chi per i per no per i finanziatori del fondo perché il fondo che cos'è una raccolta di soldi è un è un funding no è una raccolta di soldi che devono fare un ritorno no tu dai dei soldi e di devono ritornare più soldi e questo loro fanno bene benissimo complimenti ma peccato che noi siamo qui non a parlare di return on capital return on equity di queste robe qua siamo qui a parlare di calcio ci servirebbe un centravanti che segna un mediano che copre è un terzino destro che non sia una roba impresentabile a san siro ecco noi questo ci servirebbe è un allenatore un allenatore di primo livello di prima qualità questo servire questo vuole il tifoso che dire frega al tifoso del ritorno on equity ma se tu adesso chiudi gli occhi e andiamo sul campo chiudi gli occhi immagini la prossima stagione con ancora fonseca in panchina no ma se c'è ancora confessa in fonseca in panchina l'anno prossimo ma no ma no ma dobbiamo dobbiamo andare dobbiamo cingere fare un cordone dobbiamo creare una una nuova woodstock dobbiamo creare una nuova una fare una petizione popolare per andare lì e fare il presidio civile davanti a casa milan e manifestare ripeto in un modo civilissimo perché tutto il mondo veda che non possiamo più accettare queste cose che ci daremo i turni come quando ci andava a scuola per essere per trovare le aule le aule le classi migliori ci si dà i turni tra tifosi di tutto il mondo ci si raduna si dà un messaggio deve andare dei messaggi un presidio civile davanti a casa mia un presidio civico proprio davanti a casa mia permanente permanente in cui tutti quelli che arrivano giornalisti procuratori giocatori tutti sappiano che lì che lì c'è qualcuno che sta dicendo o non va bene ma la volete finire ma la volete finire che questo è il milan la volete finire che questo è il milan comunque sinceramente speriamo di non arrivare di non arrivare a questi punti intanto vedete che mi giro prendo nota dei delle tue frasi più importanti per fare poi il titolo e la copertina di questo video caro leonardo stasera troviamo carletto col col sopracciglio e bei ricordi carletto carletto ha fatto di tutto per darci tre punti in che senso e non la voleva giocare ok ok sì per magari magari non si presenta ci danno i tre punti l'unico modo forse di fare i tre punti ma sì è una partita sempre bella da vedere però sì se mi è stato real milan sì vabbè signori no madrino conosco lo stadio ma non ho visto real milan però lo stadio ma è meno io ho visto stadio di prima quello nuovo non l'ho ancora visto io sono stato mi feci squalificare da inviato dall'uefa perché ero stato in una zona in cui non potevo stare a intervistare cr7 penso me lo porterò sempre dietro anche un turno di squalifica detto questo leo su leao intanto ti chiedo quando fonseca dice fonseca dice leao è come musà è come loftus chic fa bene o fa male o fa malissimo allora in teoria fa bene perché tu la tua squadra sono tutti uguali questo è quello che devi dire ma quando lui dice lui dice una frase che è di una gravità che ti fa capire che fuori di testa sto signore qua purtroppo dobbiamo portare leao a livello degli altri ma signori analizziamo questa frase o saranno gli altri che devi cercare di portare a livello di leao non lo non il contrario sarà ocafor che devi cercare di portare a livello di leao sarà più queste che devi cercare di portare a livello di leao questo perché essendo il nostro migliore giocatore tu devi alzare il livello invece lui cosa vuol fare vuole abbassare il livello di leao e poi è contento ma che ragionamento è che ragionamento è non diceva tutto normal normal io gli chiederei io questo signore qua siccome molti lo chiamano pastè sdenata io sto cominciando a pensare di chiamarlo bacalao bacalao perché mi sembra più più rappresentativo del portogallo il bacalao rispetto al pastè sdenata bene niente questo lui di lui continua a dire che farei una domanda signore ma secondo lei conferenza stampa gliela farei magari qualcuno di voi la può fare dire ma ma secondo lei due anni fa se il milan avesse schierato ocafor questa tira di dio no ocafor invece di leao in milan avrebbe vinto lo scudetto basta fargli questa domanda dopodiché gli chiederei e come mai allora il mina con quel mina vince lo scudetto e con lei questo giocatore gioca al massimo 4 a 20 minuti e deve andare a livello del deve andare a livello degli altri che era superiore a tutti come mai cosa è successo qualcuno le ha dato un un input no allora è solo farina nel suo sacco allora ci spiega io col concetto dell'input ci convivo io credo che questa situazione si possa magari essere nata da fonseca ho dei dubbi ma sicuramente dietro la società è più che favorevole a questa gestione altrimenti sarebbe intervenuto dopo la prima panchina e avrebbe detto si fa ti spiego una cosa che è uno simone con cui ho discusso spesso in questi in questi giorni a questa teoria perché è una teoria no non abbiamo certezza a questa teoria le persone ti rispondono ma no perché la società mina non sono così pazzi a voler vedere depauperare il valore di un suo asset di un suo giocatore no questa è in effetti è un'affermazione che sta in piedi peccato che è proprio l'opposto cioè è esattamente l'opposto spiego il valore di leao vero leao al 100 per cento facesse quest'anno un campionato perfetto può essere 80 100 milioni quando vinto lo scudetto insomma era un giocatore da almeno 80 milioni quando abbiamo rinnovato se fosse sempre continua sarebbe anche più di 100 comunque diciamo 80 100 milioni c'è arrivato come valutazione di mercato giusto sì peccato che nessuno le ha offerte nessuno quindi in milan si trova con la situazione di avere un asset a 100 milioni che non che non vende un ingaggio di 15 milioni l'anno l'ordine e un po meno è perché c'è il decreto crescita vabbè comunque 13 milioni quello che vuoi diciamo 10 e mezzo il più alto ingaggio il più alto ingaggio diciamo però allora facciamo così i sette netti e quindi il più alto ingaggio di tutti e quindi giocatori tipo megnano giocatori bravi che diranno ma io vorrei guadagnare quanto leao tra l'altro leao manco gioca quindi io gioco sempre sono qui quindi datemi l'ingaggio di leao quindi questo cosa vuol dire ho fatto un esempio che è facile da capire tu erediti una villa stupenda magari tu erediti una villa che vale villa certosa di berusconi che vale 80 milioni no però villa certosa ha delle spese di condominio altissime delle spese di manutenzione altissime magari c'ha dei lavoranti dentro quel contratto a tempo determinato le tasse altissime e non riesce a venderla perché a 80 milioni che il valore che dice l'agenzia immobiliare non l'avevi quindi cosa fai se non ti puoi se non hai non puoi permetterti di pagare le spese che tu erediti una cosa la vendi a quello che riesci allora è più facile vendere lion a 40 50 milioni o a 100 con questa operazione il valore scenderà e qualcuno che dirà cavolo qui è un'occasione questa io mi compro un giocatore di modo superiore a 40 50 milioni e almeno sono contenti perché incassano i soldi fanno una plus valenza totale perché ormai completamente ammortizzato il costo iniziale di di leao quindi fanno una plus valenza passesca risparmiano sul più forte ingaggio e non hanno quelli che gli rompono le balli da dire io vorrei quindi i 100 milioni che perdi li recuperi così li recuperi li recuperi col mancato ingaggio e col mancato aumento degli ingaggi così e intanto porti a casa 50 milioni di totale plus valenza quindi da punto di vista economico che è una roba che solo a sentirla mi faccio paura solo io mentre parlo mi faccio paura praticamente cosa vuol dire che conviene che il valore diminuisca ma guarda che è una cosa da pazzi è una cosa da pazzi però è così però è così è come quando la juve compra a 100 milioni ronaldo e poi pur di venderlo lo vende a 20 milioni il concetto più o meno lo stesso perché era troppe le spese per secondo loro lì era tutto troppo perché non è che leao abbia un ingaggio di 20 milioni l'anno e 15 ha un ingaggio di 7 milioni molto alto il più alto ma se fosse messo nelle condizioni migliori potrebbe anche avere un rendimento da 7 milioni netti l'anno sinceramente no è un bel ingaggio ma non è un ingaggio monstre come altri no ecco che dire è così io già non ne posso più non è che abbiamo alternativa noi siamo tifosi e siamo condannati a esserlo nella buona e cattiva sorte questo sì no no sicuramente sarà sempre così senti mi è avuta in mente una cosa potrei aprire una rubrica io di solito faccio il post milanello risponde mi fanno le domande io rispondo potrei fare leonardo risponde se ti va magari seleziono le 10 domande più interessanti in un video rispondi i nostri amici beh magari 10 no fai 5 fai 5 anche perché tu sei un po' prolisso sì io sai sono un boomer poco tecnologico a me questo quando vedo i rifatti così veloci già mi nervosisco e oggi mi ho visto insieme uno eh infatti io l'avrei fatto più lento fuori veloce ma dicono di un ottimo piatto del miglior ristorante di pesce di milano vabbè un grande piatto il rombo con fughi e crema di zucca è un grande un grande piatto autunnale stupendo si a giovedì faccio doppietta molto bene leo io ti ringrazio sempre tanto è un appuntamento che sta diventando abituale sempre molto apprezzato teniamo duro facciamoci forza quando mi vedi un po' giù tirami su quando ti vedo un po' giù io ci provo ma io non sono giù io sono incazzato è diverso è quello pure io non volevo dirlo grazie ho seguito sui social e mi raccomando dove pubblicano anche dei video su milan e tutti da marea un abbraccio a tutti mi raccomando commentateci vediamo più tardi formazione non solo un abbraccione e grazie leo ciao 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 ciao